di lui prendi tazza direi è un po se capita un qualcosa di goloso c'è una tripla che c'è un brand cazzo baro ma davvero prenderei qua e c'è anche una tripla di pirata sì allora marlox se ne va sempre no credo che vada via marlo e anche il nato forse 4 probabilmente chi cazzo è il 24 ah ok sì 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 e non so se far tripla facciamo tripla subito direi proprio di sì cosa voglio andare via di altro però no no fermati che cazzo faccio tripla ma l'hai appena venduto zi e mi sarò confuso che colori caro è normale prendo un pendoparo mi sarò confuso con i colori questo potrebbe possibilmente fattibile vabbè c'è un altadrino hai giocatazza giocatazza tazza vabbè una buona 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 quando faccio il turno